Il Lago di Varese è necessario però ridurre la concentrazione di fosforo nelle sue acque. Così è stata avviata una sperimentazione innovativa a base di Foslock, un prodotto che ha già dimostrato di portare a questo risultato. Esisteva già una sperimentazione effettuata in laboratorio, oltre ovviamente tutta una serie di esperienze fatte su altri laghi. Il Lago di Varese ha delle peculiarità tali che hanno reso necessario questo tipo di sperimentazione. Una sperimentazione che durerà un anno e che si potrà dire riuscita laddove si dovesse dimostrare, come speriamo, che il Foslock riuscirà ad inibire il rilascio del fosforo e che la biodiversità e l'ecosistema del Lago di Varese, che presenta caratteri di eccellenza, sarà salvaguardata. Si tratta di un composto argilloso già utilizzato in altri ambienti lacustri, in Olanda, in Germania e in altre nazioni. Crediamo oggi che valga la pena effettuare questa sperimentazione sul nostro lago, sul Lago di Varese, e riteniamo di sperimentare, quindi con la curiosità, di verificare anche che tipo di risultato si andrà ad ottenere. Costruiamo tre mesocosmi, ovvero tre tubi, che vengono rilasciati a una profondità di 15 metri e creano così un mesocosmo, un'area chiusa, nel quale facciamo degli esperimenti con il nostro prodotto, che si chiama il Foslok. Una volta applicata il Foslok, che ha le caratteristiche belle di fissare il fosfato nell'acqua in modo sostenibile, durevole, vediamo che effetto avrà il Foslok sul corpo idrico di questo Lago di Varese. A gropello sul Lago di Varese, la squadra di tecnici del professor Novak si è già messa all'opera per sperimentare questo prodotto, secondo quanto disposto dalla provincia in accordo con l'osservatorio sul Lago di Varese, compiendo così un nuovo passo verso la completa guarigione del nostro amato lago. Sul Lago di Varese la provincia negli ultimi anni ha investito moltissimo, da una parte perché negli anni 50, 60 e 70 il lago era stato riempito di sostanze sia industriali che civili che l'avevano ridotto in condizioni assolutamente da recuperare. e da una parte poi perché da un punto di vista proprio dell'immagine, il richiamo turismo, oltre che dell'affezione proprio dei cittadini, è uno dei riferimenti principali dell'intero territorio provinciale. Per cui negli anni sono state fatte le cose importanti, tipo tutto l'anello di fognatura che ha evitato che tutti gli scarichi andassero direttamente nel lago, come è stato per moltissimi anni, ma vengono prima depurati e poi immessi nel lago. Ora su questo fronte si stanno facendo gli ultimi interventi per recuperare quei pochissimi scarichi che sono rimasti esclusi da questo anello e credo che nei prossimi uno o due anni al massimo verranno completamente eliminati. E in più, sempre negli anni scorsi, sono stati fatti diversi tentativi per comunque recuperare più velocemente rispetto all'andamento naturale di miglioramento delle acque e la qualità delle acque stesse. Sono stati fatti diversi interventi e sperimentazioni sull'insufflazione di ossigeno, la reazione dell'acqua, sono tutte le cose classiche che negli scorsi decenni sono stati fatti un po' in tutti i laghi europei, più o meno nelle condizioni nostre. Questo ha portato, diciamo, sicuramente a un miglioramento delle acque anche se non al recupero totale. In questo momento la situazione del lago dà qualche problema non tanto dal punto di vista degli inquinanti chimici industriali come è stato per molti anni nel passato perché questi sono stati sostanzialmente eliminati tutti. Resta proprio il carico invece biologico insomma derivante dai vecchi scarichi civili più da quello che continua inevitabilmente ad entrare attraverso il dilavamento dei terreni agricoli con eventuali concimi o fertilizzanti chimici eccetera che ha portato appunto ad un carico proprio organico nell'acqua superiore a quanto dovrebbe essere. In questo senso si stanno qui sperimentando una serie di interventi possibili in particolare questo che sta partendo in questi giorni con questa sostanza praticamente in grado di praticamente bloccare il fosforo in eccesso presente nell'acqua di trascinarlo sul fondo e poi di contribuire anche a migliorare la qualità del fondo proprio dal punto di vista del carico del fosforo. Grazie a tutti! Grazie a tutti.